12. Apporti affettivi. Domanda. Io ho una foto che ritrae mia madre con in mano un apporto ricevuto in una seduta spiritica da mio fratello, morto in un incidente stradale. Mia madre ebbe un grande sollievo dall'apporto, almeno nei primi tempi dopo la sua materializzazione. 13. Questi doni, da chi sono materializzati? 14. Guida. In genere questi apporti affettivi non sono eseguiti dal caro trapassato perché non sarebbe capace di materializzarli. Sono eseguiti invece da entità esperte chiamate guide fisiche. 15. Domanda. Chi sono queste guide fisiche? 16. Guida. Sono entità che già nella vita fisica erano esperte nella manipolazione della materia. Spesso erano degli artigiani. 16. E' il caso della guida fisica Antonello, che da molti anni si manifesta presso il cerchio esseino attraverso lo strumento NT. 16. Antonello, infatti, lavorava alla Creta e vendeva i suoi prodotti artigianali nella campagna maremmana. 16. E' il caso della guida fisica Antonello, infatti, lavorava alla Creta e vendeva i suoi prodotti artigianali nella campagna. 16. E' il caso della guida fisica Antonello, infatti, lavorava alla Creta e vendeva i suoi prodotti artigianali nella campagna.